Il reparto operativo del Comando Provinciale di L'Aquila, in collaborazione con il Comando Provinciale di Bari, tra i comuni di Bari, Bitonte e Altamura, ha dato esecuzione a 10 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, mazzette e incariche a parenti ed amici per aggiudicarsi a palti pubblici nella ricostruzione dell'Aquila, a oltre 8 anni dal terremoto che causò distruzione, 309 morti e circa 1500 feriti. Coinvolti funzionari infedeli anche di vertice dei beni culturali abruzzesi, con sede nel capoluogo di regione imprenditori e professionisti, 10 sono finite le arresti domiciliari, a 5 è stata notificata l'interdizione dall'esercizio dell'attività professionale, altri 10 indagati. Dalle intercettazioni telefoniche spunta anche un altro imprenditore, dopo Francesco Piscicelli, che in occasione del sisma dell'Aquila ride, così scrive il GIP, parlando al telefono con il suo dipendente, il geometra Leonardo Santoro, delle future commesse del terremoto del centro Italia del 2016, in particolare di Amatrice, si tratta di Vito Giuseppe Giustino, 65 anni di Altamura, ai domiciliari presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società Cooperativa Internazionale. Questo, quanto si legge nelle 183 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Giuseppe Romano Gargarella, che evidenzia come dopo le nuove scosse di terremoto, gli imprenditori e i monitorati avessero cercato nuovi incarichi grazie ai rapporti diretti con i pubblici funzionari. I carabinieri dell'Aquila, oltre che in Abruzzo, hanno eseguito perquisizioni e sequestre in Campania, Puglia e Marche. Nel Mirino, 12 appalti pubblici relativi ad edifici storici gestiti dal MIBAC Abruzzo, tra cui Spicca e il Teatro Comunale, in pieno centro all'Aquila, ancora hanno restituita la città. Pesanti le accuse. Gli indagati sono ritenuti responsabili dei reati di concorso in corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità materiale ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, nonché soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Secondo quanto si è appreso, le indagini dei Carabinieri dell'Aquila, coordinate dal procuratore capo Michele Renzo e dal PM Antonietta Picardi, sarebbero scattate da spunti investigativi emersi da altra inchiesta, ad inchiodare gli indagati, intercettazioni telefoniche ambientali, oltre che video e foto che dimostrerebbero le dazioni di denaro per vincere gli appalti. Gli investigatori definiscono sistematico lo stratagemma utilizzato, le appalti pubblici aggiudicate ad imprese amiche, con ribassi d'asta cospicui, con le somme in questione recuperate poi, con varianti in corso d'opera affidate direttamente con i funzionari infedeli che ricevevano denaro dagli imprenditori.